Caro iPhone 15 Pro, stavolta ti ho beccato in castagna, esiste qualcosa che non sai fare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia, per cui oggi andrò a mostrarvi un aspetto fotografico e che per la verità riguarda anche il video di iPhone 15 Pro, telefono che è in mio possesso da ormai un mesetto e con cui mi sto trovando abbastanza bene, ciò non di meno oggi andremo a vedere una cosa, una sola, che secondo me questo telefono non sta facendo per niente bene. Faccio una premessa doverosa, ho già realizzato qualche video su questo device, quindi vi invito ad andarveli a recuperare, le cose che dirò oggi fanno seguito a alcune cose che ho già detto in altri video, quindi potrei dare delle informazioni parziali perché le do ormai per scontate, in quanto le abbiamo già snocciolate sia nei video sia nei commenti. Riguardo ai commenti in particolare, vi invito a iscrivervi adesso al canale, perché se mi lasciate un commento è molto probabile che io vi risponda con un video, con un contenuto breve verticale, quindi se non volete rischiare di perdervi la risposta a un vostro eventuale commento, il bottone rosso sta subito qui sotto. Lasciate anche un like a questo video perché più il canale cresce e più avrò contenuti da portarvi riguardo diavolerie tecnologiche come questa e non solo. Esistono diversi aspetti del mondo foto e video che ho intenzione di indagare su questo nuovo device, uno di questi che vi porto oggi è l'ambito macro, ovvero che cosa succede quando noi andiamo a fare fotografie o riprese video di qualcosa di molto piccolo e quindi vogliamo andare molto vicino a questo qualcosa con il nostro telefono per fare una ripresa ravvicinata. Chi si occupa di fotografia lo saprà molto bene, quando noi dobbiamo fare questa cosa con una macchina fotografica o una videocamera tradizionale abbiamo bisogno di una lente fatta apposta, abbiamo bisogno di un obiettivo macro, quindi di una lente costruita in maniera tale da consentirci di mettere a fuoco a distanze ravvicinate. La maggior parte delle ottiche ci consente di arrivare fino a una trentina di centimetri, ventina di centimetri dal nostro soggetto. Se andiamo più vicini l'immagine risulta fuori fuoco perché la lente non è in grado di mettere a fuoco così vicino e questo può essere un problema che ha molteplici soluzioni. Ma nel momento in cui stiamo scattando su smartphone noi non possiamo cambiare lente, cioè sì, sull'iPhone 15 Pro abbiamo tre diverse camere che poi si coniugano in maniera diversa fra di loro per darci fino a sette focali, però non possiamo realmente cambiare l'obiettivo. Ecco che in questo caso la modalità macro che si innesca automaticamente quando noi andiamo vicini al nostro soggetto risulta essere un'interpolazione. Praticamente non è un obiettivo macro, ma è una ricalibrazione in macro di un'immagine che viene processata internamente. Quindi non è vero macro, la resa che ci viene restituita è una resa artefatta, non in linea con le immagini che normalmente questo telefono è in grado di catturare perché le immagini che vengono fuori da questo telefono sono buone, sono sorprendentemente buone. Io sono innervosito da quanto sono buone le immagini che si riescono a scattare con questo device. Lo so che non è il migliore, so che ce ne sono altri che eccellono in teleobiettivo, per esempio laddove questo per esempio si ferma a 77 mm, quindi non è la cosa migliore che possiamo avere forse anche se è maledettamente buono. Però esistono certi aspetti e questo è uno di quelli dove secondo me performa veramente male. Ma come sempre non vi chiedo di credere a me. Andiamo a vedere questa schermata dove vi faccio vedere, vedete questa qui è una fotografia scattata con una macchina fotografica vera. Oltre ad avere una bellissima resa dei colori, vedete che abbiamo uno sfoccato abbastanza pronunciato, solamente alcuni dettagli sono a fuoco, mentre gran parte dell'immagine va fuori fuoco molto molto in fretta. Vedete che abbiamo per esempio le ghiere frontali che sono sfocate, mentre l'elemento frontale dell'obiettivo, quindi la parte di vetro, è perfettamente a fuoco. È una fotografia che ovviamente è stata fatta con un'ottica, con del vetro vero, non con un telefono smartphone. Andiamo ancora più vicini e vedete che qui abbiamo uno sfoccato ancora più accentuato, perché diminuendo la distanza la profondità di campo diminuisce. Vedete che qui abbiamo a fuoco solamente la porzione centrale, proprio qui sul centro del tappo dell'obiettivo in questione. Vedete che nella zona dove è a fuoco abbiamo una bella nitidezza, un bellissimo dettaglio. E questo è quello che succede normalmente quando utilizziamo una fotocamera con del vetro vero. In questo caso particolare la fotocamera in questione è anche piuttosto belloccia, perché si tratta di una Lumix S5 2X, quindi una fotocamera molto bella che mi è stata mandata in prova da Panasonic con cui sto facendo dei test e ho pensato di fare anche questa comparazione per farvi vedere comunque il file di una fotocamera bella, una fotocamera costruita bene e che tira fuori un file che non ho ancora avuto modo di lavorare a fondo, ma mi sono reso conto, è estremamente malleabile. Quindi un bel file, bello da lavorare con una bella gamma dinamica e con dei bei colori. Quindi il file di questa chiaramente vince sul file di un iPhone 15 Pro. Ma di nuovo io non vi chiedo di fidarvi di me e adesso andiamo a vedere perché vince e in che modo. Benissimo, siamo all'interno della fotocamera dell'iPhone. Da questa distanza vedete che non succede niente, da questa distanza è uguale alla fotografia che abbiamo visto. Si fa per dire uguale, diciamo che l'Aresa è la stessa, ma guardate. Nel momento in cui mi avvicino vedete che c'è uno scarto, entra in funzione la modalità macro. Adesso io torno indietro e vedete che la modalità macro viene disinserita. Notate la differenza? Guardate, facciamolo di nuovo. Io adesso vado nuovamente a zoomare su un dettaglio. Lo stesso di prima, l'illuminazione è esattamente la medesima. Bam! Vedete, entra in funzione la modalità macro e vedete come peggiora l'immagine. Abbiamo una caduta qualitativa evidente. Ecco, adesso è di nuovo disinserito. Io adesso mi avvicino e di nuovo viene inserito. Vedete che cambia proprio l'inquadratura. Io adesso vado a forzare l'eliminazione del macro e vedete che adesso rende meglio. Rende meglio così. Nel momento in cui entra in funzione la modalità macro, che quindi dice automaticamente al telefono che stiamo andando a mettere a fuoco da molto vicino, io riscontro una caduta qualitativa molto evidente. Forse esistono dei trucchi per bypassare questa cosa, per farlo funzionare meglio. Vedete, fin qui funziona bene, tac. Appena entra in funzione la modalità macro, abbiamo... Vedete che sfarfalla proprio. Non è una bella qualità d'immagine. Non è neanche minimamente paragonabile a quella di una fotocamera, ma non è paragonabile nemmeno a quella dello stesso iPhone quando la modalità macro è disinserita. Ora, vero anche che noi possiamo disinserire la modalità macro, utilizzare un'ottica più spinta e stare un passettino indietro e fare esattamente la stessa cosa. Questo vale sia per foto sia per video. In entrambi i casi abbiamo una caduta qualitativa, l'avete vista anche voi, molto evidente. Ora, questo che cosa significa? Che non è un buon device? Assolutamente no. Io sono convinto che sia un device eccezionale per certi tipi di utilizzo. Ovviamente, a mio parere, non va a sostituire la macchina fotografica professionale che, insomma, è il mio strumento di lavoro. Io non voglio abbandonare questo strumento e quindi mi affido a un device come questo quando mi interessa la rapidità, l'immediatezza, quando devo lavorare in fretta, quando non devo lavorare, paradossalmente, perché magari sto semplicemente facendo una foto di un tramonto ed è per me, anche se in quel caso preferirei avere una macchina fotografica bella anche. Esistono decine di utilizzi, per cui è meglio utilizzare uno smartphone rispetto a una fotocamera semplicemente perché è più veloce, ci fa risparmiare tempo e ci consente di goderci l'attimo. Esistono delle tipologie di fotografia, invece, quelle un pochettino più professionali, un pochettino più complicate, dove lo smartphone ancora non ci arriva. In questo caso, secondo me, siamo proprio di fronte a uno di questi casi perché nel momento in cui io sto facendo macro con una macchina fotografica, vero è che è complicato, che mi devo portare dietro delle cose, un treppiede, delle luci, un flash ring, insomma, non è facile fare macro con la macchina fotografica. Questo paradossalmente mi dà il risultato subito e per essere un telefono il risultato che mi dà è notevole. Dovrei avere dietro un sacco di cose per ricreare la stessa fotografia con una macchina fotografica e un obiettivo macro vero. Quindi questo mi dà l'immediatezza e la facilità di utilizzo ed è alla portata di chiunque perché basta puntare e premere e scattare. Quindi è facile da utilizzare. Fotografia macro non è facile da fare, ci sono un sacco di cose che entrano in gioco. Vi lascio in cardo un video che ho fatto un po' di tempo fa sul focus stacking, quindi creare una fotografia con tutti i piani a fuoco, che non è una cosa facile perché quando andiamo a fotografare, vi ricordate la foto che ho mostrato all'inizio, quando noi ci avviciniamo al soggetto la profondità di campo diventa molto sottile e quindi è difficile avere tutto quanto a fuoco. Lo smartphone, per sua natura, per il rapporto tra la dimensione del sensore e la lente, ha questa caratteristica di mantenere quasi sempre tutto a fuoco. Quindi è più facile catturare un'immagine ravvicinata mantenendo tutto quanto a fuoco. Si perde lo sfondo sfocato, ovviamente, però se il nostro obiettivo è avere tutto l'oggetto a fuoco, il telefono può performare anche, diciamo, meglio rispetto a un obiettivo fotografico dedicato alla macro. Per quanto riguarda la qualità di immagine, la nitidezza e anche la resa dei colori, però secondo me non ci siamo ancora. Quindi questo è un aspetto che si potrebbe migliorare e mi aspetto che lo migliorino alla prossima release o magari con un aggiornamento di sistema operativo perché magari è sufficiente quello. A questo punto, amici, vi chiedo, voi che cosa ne pensate? Avete provato la modalità macro su iPhone 14 o iPhone 15? Come vi siete trovati? Avete riscontrato anche voi questo problema? Esiste qualche trucco per bypassare questa modalità in maniera tale da scattare delle foto e girare dei video migliori anche quando stiamo andando appiccicati al nostro soggetto? Fatemelo sapere in un commento. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché se mi commentate magari vi rispondo con un video verticale e chiaramente non volete perdervelo. Rimanete aggiornati per i prossimi aggiornamenti su questi due meravigliosi device che vi ho fatto vedere oggi e noi vi diamo appuntamento al prossimo video.